Un caro saluto agli amici di Radio Grock, Davide Rosso per il secondo incontro dedicato a Imperia nella letteratura italiana, un incontro durante il quale vi parlerò di Giovanni Boine, una figura estremamente interessante e affascinante, un letterato che io leggo con grande passione, anche perché alcuni aspetti della sua biografia incredibilmente si sovrappongono con la mia storia personale. Boine nasce a Final Marina, studia prima a Genova e poi a Milano, entra in contatto con l'ambiente intellettuale di quella città, inizia a collaborare con diverse riviste, tra cui la famosissima Voce di Firenze. Soltanto diversi anni più tardi si trasferirà a Porto Maurizio perché la famiglia materna aveva dei possedimenti, in particolare a Lecchiore, il nonno era proprietario di alcuni uliveti e a Porto Maurizio la famiglia aveva degli appartamenti in cui lui si trasferisce. Il trasferimento è dovuto sia alle difficoltà economiche che Boine attraversava, sia al suo stato di salute, fin da giovane è minato dalla tubercolosi e il clima salubre di Porto Maurizio gli viene consigliato dai medici come cura per la sua malattia. Gli anni trascorsi a Porto Maurizio sono anche quelli più interessanti e più fecondi per quanto riguarda la sua produzione letteraria. Giovanni Boine muore il 16 maggio del 1917 a Porto Maurizio e questa puntata vuole anche essere una celebrazione pochi giorni dopo il centenario della sua morte da parte della sua città che sembra in qualche modo averlo dimenticato. Muore quindi quando non ha ancora compiuto a 30 anni e tutto quello che ci lascia è questo libro che contiene, come si dice, l'opera omnia di Boine. Non è un libro molto voluminoso ma contiene diverse opere interessanti. La prima è un romanzo che si intitola Il Peccato. Il Peccato è un romanzo autobiografico nel quale il protagonista dietro il quale la figura dello scrittore è facilmente sovrapponibile racconta una storia d'amore con una monaca. Questa monaca stava nel convento delle Carmelitane che si trova dove oggi c'è la parrocchia di San Benedetto Revelli. Questo è il motivo per cui registriamo questa puntata qui al Monte Calvario perché il primo incontro di Boine con questa monaca avviene proprio mentre il protagonista sta salendo per fare una passeggiata qui sul Monte Calvario, sente il suono di un organo dentro la chiesa, entra in chiesa e vede questa monaca che sta suonando l'organo. A partire dalla musica, quindi da un'esperienza artistica, si crea quindi una relazione in qualche modo tra questi due giovani. Ovviamente il precedente che viene subito in mente è la monaca di Monza di Manzoni, però ci sono molte differenze perché Suor Maria, la monaca del Peccato, non ha nulla di morboso, di peccaminoso come la Gertrude Manzoniana. È una giovane che è stata messa in convento in qualche modo forzatamente e non avendo nessuno fuori si lega al protagonista del romanzo cercando di usare questa conoscenza, questa amicizia come una leva per uscire da una vita che lei in realtà non ha scelto. Al centro della vicenda c'è il protagonista stesso che vive con grande tormento questo sentimento, questo legame, anche perché sullo sfondo di tutta la vicenda c'è la Porto Maurizio dell'epoca che è clamorosamente uguale in qualche modo alla Porto Maurizio di oggi. Un po' beghina, un po' bigotta, benpensante, che condanna il protagonista di questa vicenda secondo la morale comune. Dunque, parlavano già, maledetto paese, sei spiato, ti contano addosso le pulci, san tutto, vedono tutto e anche di più che tu stesso non sappia e non veda. È una specie di mistero, come ciò avvenga, ma sanno sempre tutto in un giorno e tutta la città se ne riempie. Interviene anche un'altra figura dell'imperia dell'epoca, Don Abbo il Santo, che fa un po' da mediatore tra il protagonista e la monaca, la quale monaca alla fine, anche grazie all'intervento del vescovo di Albenga, riesce a uscire dal monastero e viene spostata, diciamo così, presso la zia di questo Don Abbo il Santo che stava a Poggi. E anche qui la biografia di Boine e la mia storia personale in qualche modo si sovrappongono. Questo romanzo si conclude con il protagonista che fa su e giù tra Porto Maurizio e Poggi, frequenti visite a questa donna che ormai non è più una monaca ma sta diventando una donna di mondo e infatti attrae anche l'attenzione di altri uomini sia di Poggi che di Porto Maurizio che salgono per vederla e in qualche modo questo amore sembra essere un po' la riconciliazione tra le due anime del protagonista Giovanni. Da un lato l'idealità, il tentativo di raggiungere l'assoluto e dall'altro la vita pratica che è sempre stata un po' per Boine il tallone d'Achille, il tasto dolente della sua biografia. Sentì qui l'acre e sottile puntura della gelosia, nel sorriso e questo gioco vario e leggero nell'ansia, questa giovinezza viva, fresca e leggera, dell'amare una donna che è donna. E ti sfugge e si mostra e si dà e si riprende ed è vagula e varia e tama e non tama e dice e disdice ed è tutta con te ed ora fantastica, vagabonda sognando ed è sua di sé o ti parte repiti d'altri. T'obbliga a muovere, ti fa essere giovane, ti rompe dentro la ridume e le croste, non ti lascia nella sonnolenza composta a quetare e se tu pensi precede e se tu t'arresti ti incita e se tu senti ha sentito, ha intuito, rapida e fonda, è innanzi a te gaia, è intorno a te giovine, è come un lavacro di riso e di vita. Trovandosi a Porto Maurizio, che naturalmente non era una città che avesse una grande tradizione culturale, Giovanni Boine entra, si può dire in modo naturale, in contatto con Mario Novaro e la sua Rivera Ligure, nella quale abbiamo parlato nella puntata precedente. Il legame tra i due diventa molto forte dal punto di vista artistico, Boine era un po' diffidente perché da letterato puro si rapporta inizialmente a questa figura di commerciante che però si occupava anche di letteratura con una certa prudenza. Poi invece i due diventano molto amici e la collaborazione di Boine alla Riviera Ligure fu estremamente fruttuosa. Boine tenne per anni sulla Riviera Ligure una rubrica di recensioni che si intitolava Plausi e Botte, naturalmente da buon Ligure erano molte più botte che Plausi. Ci sono alcuni scritti veramente interessanti. Intanto la capacità di Boine di centrare veramente i grandi autori che recensiva. Le più entusiastiche recensioni ad esempio riguardano Camillo Sbarbaro, Clemente Rebora e Dino Campana, cioè tre tra i poeti più interessanti, riconosciuti oggi dalla critica come più importanti di quel periodo storico. Tutti e tre, lui li recensisce con grande entusiasmo. E poi sono interessanti anche alcune stroncature, per esempio quella a tal Vincenzo Agostini, di cui poi infatti nella storia della letteratura non è rimasta traccia. Questa è una recensione interessantissima, secondo me è uno degli scritti più belli di Boine. Recensione a opera tale di Vincenzo Agostini, Boine inizia a parlare di una sua gita a Poggi. Con alcuni amici si trovano, vanno a Poggi, mangiano il coniglio, si ubriacano, scendono a piedi sotto le stelle come una romantica gita tra amici e il lettore si chiede che cosa c'entra tutto questo con l'opera che doveva essere recensita. Soltanto nelle ultime tre righe Boine dice ho parlato di questa cosa perché questo mio canto mi sembra molto più interessante di tutte le altre poesie che avrei dovuto recensire, delle quali non ho veramente nessuna voglia di parlare. È una stroncatura assoluta ma anche molto raffinata dal punto di vista letterario. Sempre sulla Riviera Ligure di Maria Novaro esce anche uno scritto che si intitola La città che per il mio gusto personale è la cosa più bella che Boine ha scritto. Racconta i primi mesi della permanenza di Giovanni Boine a Porto Maurizio e anche l'inizio della sua relazione con questa città. Una relazione difficile perché abituato all'ambiente culturale e alla mentalità delle grandi città si ritrova scaraventato in piena provincia e un uomo come lui, un intellettuale idealista che aveva grandi pensieri verso l'assoluto si ritrova invece in una società che è tutta orientata alla pratica. La borghesia che pensa al proprio guadagno personale, il pettegolezzo e la mancanza dice lui di orizzonti più vasti. Il rapporto con Porto Maurizio è veramente ambivalente, è un amore e odio. Da un lato c'è la città che lui riconosce come un luogo bellissimo pieno di sole, di colori, di luce e di vita e dall'altro però c'è questa società di Porto Maurizio all'interno della quale lui si sente veramente costretto. Anche in questo mi pare che Giovanni Boine abbia di un centinaio di anni anticipato purtroppo per molti versi la realtà della Porto Maurizio di oggi. All'interno della città c'è quella che secondo me è la più bella descrizione mai scritta di Porto Maurizio. Città ricca, città colorata, città soleggiata, città spazzata dai venti, città abbracciata dal mare, città ben costruita come una prora di nave sul mare, città antica, città come un alveare di uomini, come un grande, come un secolare alveare, torno, torno un monte sul mare, alveare antico di uomini, rigurgito antico di uomini, ogni anno a centinaia gli uomini, i nati e i morti alternatamente, e la città da secoli dura e rigurgita. Boine era un letterato ma prima di tutto era un intellettuale. Oggi noi siamo abituati nella società moderna a categorizzare molto chi è letterato, scrive romanzi o poesie, chi è economista parla di economia e via dicendo. Ma cento anni fa non era così, l'intellettuale era un intellettuale a 360 gradi. Boine scrive un interessantissimo trattato di economia che si intitola La crisi degli olivi in Liguria. Questo articolo tra l'altro esce sulla voce, quindi ha una rilevanza anche politica nazionale. E in questo scritto, questo intellettuale, geniale, intelligentissimo, si dimostra veramente un anticipatore dei tempi moderni. Tutto nasce dal fatto che la proprietà di suo nonno, gli olivetti di Lecchiore, erano in vendita perché non rendevano più. E a partire da questo episodio Boine parte con una riflessione ampio raggio sulla piccola proprietà terriera dell'entroterra, confrontandola con i commercianti che stanno invece a Porto Maurizio, a Oneglia, i quali, dice, continuano a vendere olio mentre i frantoi della valle sono vuoti perché questo olio lo prendono dalla Spagna, dalla Grecia e lo trasformano in olio nostro. Naturalmente il punto di vista di Boine è chi appartiene alla piccola proprietà terriera che quindi sollecita un intervento del governo anche a sostegno dei piccoli imprenditori. Ma è sorprendente se pensiamo che dopo cento anni in qualche modo le istanze dei proprietari terrieri della valle e anche la situazione nel mercato dell'olio è in qualche modo la stessa. Ripeto, questo scritto esce sulla voce quindi ha veramente una risonanza nazionale e Boine in questo modo ci dimostra veramente di essere non semplicemente un letterato ma un intellettuale che ha a cuore il suo territorio e ha una visione più ampia rispetto a quella forse degli stessi politici della sua epoca. Parlando della crisi degli olivi in Liguria, Boine trova il modo di celebrare secoli e secoli di generazioni che hanno lavorato il nostro entroterra costruendo questo paesaggio di muri a secco e di olivi che secondo Boine sono un po' la cattedrale della nostra civiltà. E' l'opera trionfale della razza, di tutta la razza fu compiuta. Come il popolo di una città medievale, la cattedrale sua, così noi nei secoli. Secoli di stenti, secoli di fede chiusa, colpi di bidente, pietre l'una sull'altra a fatica. Pareva avidità di possesso ed era nello scuro, nelle torpide profondità del volere, la coscienza di una razza, la forza di una razza, la sicura religione della razza. La nostra cattedrale, gli uliveti folti, boscosi, d'argento per tutto. Cari amici di Radio Groc, siamo arrivati alla fine di questo secondo intervento dedicato a Imperia nella letteratura italiana. Io ringrazio ancora i ragazzi di AF Videoproduzioni che con il loro supporto tecnico hanno permesso la realizzazione di questi due interventi. Ringrazio Riccardo e Sara per lo spazio che mi hanno concesso all'interno della rubrica Pensieri e parole. Come dicevo, Giovanni Boine è morto poco più di cento anni fa. Non ho detto finora che Boine era profondamente religioso, profondamente credente, di una religiosità vera, non bigotta ma sostanziale. E allora io spero che dal paradiso al quale sicuramente avrà sperato di accedere, ci stia guardando e stia guardando questi giovani, in qualche modo o meno giovani, che nei suoi luoghi Porto Maurizio, il mare di Porto Maurizio, il Monte Calvario qui sotto, l'entroterra, Lecchiore e Poggi, quindi proprio al centro dei luoghi che sono stati così importanti per la sua vita e per la sua opera, tenta di ricordare questo intellettuale che è certamente lo scrittore più importante tra quelli che hanno vissuto e hanno fatto riferimento in qualche modo a Porto Maurizio. Un caro saluto a tutti.